La sega circolare da banco si può trovare sia come postazione fissa che come postazione portatile, utilizzata spesso nei cantieri edili. In abbedue i casi il suo funzionamento consiste nel far scivolare il pezzo da tagliare sul banco su cui è fissata la lama per il taglio. La corretta progettazione dell'attrezzatura, insieme ad alcuni accorgimenti procedurali dell'operatore, consentiranno il suo utilizzo in sicurezza. In funzione dei rischi specifici evidenziati dovranno essere utilizzati gli opportuni dispositivi di protezione individuale. Le scarpe antinfortunistiche, per proteggersi da schiacciamenti e perforazioni, con suolo antiscivolo. Un paio di occhiali in policarbonato, con lente panoramica e protezione laterale, per proteggersi dalla proiezione di schegge o detriti. Un paio di cuffie, tappi o un archetto per la protezione da livelli eccessivi di rumore. Un paio di guanti per la protezione delle mani da fenomeni di abrasione, taglio o perforazione. Mascherina protettiva delle vie respiratorie di classe minima FFP2, per polveri di legno, raccomandabile in caso di esposizione media giornaliera superiore a un milligrammo per metro cubo. E' inoltre raccomandato di non indossare indumenti e accessori che si possano impigliare, quali sciarpe, collanine, bracciali o altro. Per la drastica riduzione delle polveri di legno, la macchina deve essere dotata di un sistema di aspirazione collegato a uno specifico impianto con stoccaggio esterno. Prima di iniziare il lavoro, verificare lo stato di efficienza dei dispositivi di comando della macchina, compreso il fungo rosso, per l'arresto di emergenza. Con banchi portatili va verificata anche la stabilità di installazione della macchina. In caso di dubbi o problemi tecnici, tutte le indicazioni di uso e manutenzione sono contenute nel libretto della macchina. Nell'esecuzione del lavoro, attenersi esclusivamente alle procedure di sicurezza previste. Il rispetto delle norme tecniche di costruzione è garantito dalla presenza del marchio CE sulla macchina e sul libretto. I dispositivi di protezione della sega sono costituiti da una cuffia di protezione sopra la lama, una protezione del disco e degli organi di trasmissione nella parte sottostante il banco di lavoro, schermi fissi di protezione ai lati, un coltello divisore posizionato dopo la lama, un tasto a fungo di colore rosso per l'arresto di emergenza. È vietato rimuovere o modificare i dispositivi di protezione e di emergenza installati sulla macchina. Il disco della sega circolare da utilizzare per il taglio deve essere sempre in buone condizioni di affilatura. Quando la lama non è ben affilata, il disco va sostituito, sempre con la macchina scollegata dalla rete elettrica. Occorre fare particolare attenzione che il disco sia ben fissato all'albero di rotazione. Verificare la presenza e l'adeguatezza dello spingipezzo a disposizione. Il suo utilizzo è tanto più importante quanto più piccoli sono i pezzi da tagliare. Eventuali persone presenti prive dei necessari dispositivi di protezione individuale vanno allontanate dall'area di lavoro. Durante le operazioni di taglio mantenere la massima attenzione sul lavoro in corso, non distrarsi. Non abbandonare mai la macchina in funzione. Al termine del lavoro lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curando la pulizia. Le operazioni di pulizia e manutenzione vanno eseguite tassativamente a macchina ferma e priva di alimentazione elettrica.